Io vorrei iniziare a vedere delle battute per piacere. Meno uno. Zero. Uno. Per me il vi si muore. Due. Non gliele passare Manu, fatti i cazzi tuoi. Tre. Quattro per merito di Marco. Che stronza. Tre. Alzata perfetta di Simone, rovinata. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Quattro. Abbassi sulla gamba e accompagna. Cinque. 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 Non è una ricezione corretta. Per essere staccate a rete con l'uso delle gambe. Sei. Cinque. Più giù. Più giù e aspettare il rimbalzo. Quattro. Ci sembra una buona idea di tirare forte quando le gambe sono così cariche. Un po' di più. 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 Poi arriva la stanchezza. Poi arriva a essere grassi. se lui è grasso io sono una balena spiaggiata tu sei una balena spiaggiata non neghiamo l'evidenza per piacere tre vieni dal Belgio, mangi il goulash si perché hai perso la massa muscolare e sei sostituita il grasso tre wow quattro l'ho sentito quando ti ho strizzato quattro ancora veramente dalla pancia che ho stretto rispetto alla schiena ma ma che gare cinque non posso darla buona perché è in diagonale ci rimane dentro la metà però ci rimane dentro la metà sì sei accompagnala con la gamba che lui è entrato in deficienza e tira forte non ha mai tirato forte in guida sua ci tira quando è stanco cinque non ti preoccupare lui è soltanto il test della sicurezza per la Ferrari perciò compra Ferrari siamo proprio in bae sette otto sette otto sette 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 otto nove noi la staccare simo 9 dai 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 meno 1 meno 2 dai ma devi muovere il culo meno 1 la palla va affasciata non è un colpo a caso 0 1 gioco batti con della forza meno 1 questo è perché vuoi sempre sbracciare e decisare le gambe 0 0 questo è perfetto Simone bravo 0 1 1 1 1 1 a questa riflessione oh bello due tre quattro quattro molto bene cinque quattro tre quattro 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 cinque quattro 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 2 Quanto sei Joe? 35 Molto bene 1 2 3 2 1 1 6 0